ma si può parlare di Dio a scuola? punto di domanda è il tema di un simpatico articolo del filosofo Umberto Galimberti sul quotidiano romano della Repubblica bene 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 cari amici io l'articolo di Umberto Galimberti ve lo metto come linea di assunto di questo video se non che la questione che affronta Umberto Galimberti mi ha fatto tornare la memoria quando io facevo il professore di filosofia e storia nei dicei classici scientifici e appunto cosa volete insegnando la storia della filosofia a un certo punto arrivi alla non dico la filosofia greca anche lì si parla di Dio perché non dico Platone c'è l'idea del bene ma Aristotele parla di Dio poi Aristotele che scrive Aristotele scrive Dio esiste necessariamente va bene però quando si arriva poi alla filosofia diciamo così medievale la filosofia patristica la scolastica no Sant'Agostino Sant'Tommaso e lì devi per forza parlare di Dio devi per forza parlare di Dio devi per forza parlare di Dio Sant'Agostino le confessioni la città celeste la città terrestre Sant'Tommaso d'Aguino qui è di seguito e allora cosa volete che vi dica io sono questo qua cosa volete che vi dica io sono questo qua e allora dico che Dio è una verità di fede è una verità di fede è una verità di fede perché poi arrivando all'ultimo anno della storia della filosofia si arriva al filosofo italiano Gentile Giovanni Gentile il quale definiva la religione diceva religio filosofia puerorum Giovanni Gentile che era il filosofo preferito da Benito Mussolini è stato è un grande filosofo è stato un grande filosofo vuoi che sia chiaro un filosofo di fama mondiale Giovanni Gentile e si diceva religio filosofia puerorum la religione e la filosofia dei bambini allora un ragazzo un ragazzo della classe in cui mi trovavo aveva letto Dostoeschi il grande il grande Dostoeschi Fidel Dostoeschi autore di tantissime opere no? diritto e castigo e questo ragazzo un ragazzo intelligente mi cita il romanzo di Dostoeschi il fratello Karamazov e mi ricorda mi ricorda lui mi ricorda questo ragazzo che nei fratelli Karamazov un protagonista dice se Dio non esiste tutto è possibile se Dio non esiste tutto è possibile allora io dico a questo ragazzo ah sì? se Dio non esiste tutto è possibile ora sapete cosa ho fatto? dalla borsa dalla borsa la mia borsa che tengo sempre lì per terra vicino alla mia sedia dalla borsa tiro fuori il portafoglio tiro fuori il portafoglio e lo metto sulla scrivania e gli dico beh allora casomai Dio non esistesse no? vieni qua a portarmi via il portafoglio e lui resta così resta così il ragazzo resta così resta così ragazzi resta così cioè capisce che anche se Dio non esiste anche se Dio casomai Dio non esistesse e non è che noi possiamo fare tutto quello che ci pare e no ci sono le galerie ci sono le patrie galerie ci sono e per questo che noi non facciamo quello che ci pare ma facciamo solo quello che è consentito solo quello che è consentito perché noi ci sono le galerie le galerie ci sono anche per quelli che credono in Dio che sia chiaro che sia chiaro beh cari amici interessante l'intervento del filosofo Umberto Calimberti interessante non è non è questo il primo video che io dedico a Umberto Calimberti quanti gliene ho dedicati voi non dovete fare altro che andare su Youtube vedete io sto su Youtube vedete e questa adesso i video sono di più e sono oltre 12.000 i video le visualizzazioni si oltre 10 milioni e poi ci sono gli iscritti che sono circa 15.000 voi andate su Youtube cercate Umberto Calimberti Serafino Massoni va bene vi saltano fuori tutti i video che io ho dedicato a Umberto Calimberti questo è soltanto l'ultimo bravo filosofo Umberto Calimberti